sta tergiversando è tutta tua allora prova allora secondo me magari forse in un certo modo lui arriva in cima, ve lo giuro guarda eh, sono sicuro 10 20 30 35, 40 45 50 dopo il braccio e dopo il braccio e un attimo un applauso Mattia Pavani che adesso regala tutto il pubblico Alessio Gorelli 49,4 prima